Dominos tecum, benedicta tui, murieribus, el benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori, lunga di ora morgis nostre anni. Mater Divina, grazie. Ora pro nobis. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle. Un nostro poeta, Giuseppe Ungaretti, descrive lo stato d'animo dei soldati in trincea durante la Prima Guerra Mondiale con una poesia fatta solo di otto parole. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Oggi è l'umanità intera che sperimenta questo senso di caducità e di precarietà a causa della pandemia. Il Signore ha scritto San Gregorio Magno, a volte ci istruisce con le parole, a volte invece con i fatti. Nell'anno segnato dal grande e terribile fatto del coronavirus, ci sforziamo di raccogliere l'insegnamento che da esso ognuno di noi può trarre per la propria vita personale e spirituale. Sono riflessioni che possiamo fare qui tra noi, ma sulle quali sarebbe forse controproducente insistere troppo presso la gente, per non accrescere l'esasperazione, le difficoltà che la fede incontra già a causa del prolungarsi della pandemia. Le verità eterne sulle quali vogliamo riflettere sono, primo, che siamo tutti mortali, che non abbiamo qua giù dimora stabile, secondo, che la vita del credente non finisce con la morte perché ci attende la vita eterna, terzo, con la barca del nostro pianeta perché il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. La prima di queste verità è oggetto di esperienza, la morte. Le altre due sono oggetto di fede e di speranza. Iniziamo meditando oggi sulla prima di queste massime eterne, la morte. Memento mori, ricordati che morirai. I monaci trappisti l'hanno scelto come motto del loro ordine e scrivono queste parole nei luoghi di passaggio del monastero. Ma esso vale naturalmente per tutti noi. Memento mori. Della morte si può parlare in due modi diversi, o in chiave kerigmatica o in chiave sapienziale. Il primo modo consiste nel proclamare che Cristo ha vinto la morte, che esso non è più un muro contro cui tutto si infrance, ma un ponte verso la vita eterna. Il modo sapienziale o esistenziale di parlare della morte consiste invece nel riflettere sulla realtà dolorosa della morte, così come essa si presenta all'esperienza umana. allo scopo, però, di trarre da essa lezioni per vivere bene. Ed è la prospettiva in cui ci collochiamo in questa meditazione. È il modo in cui si parla della morte nell'Antico Testamento, questo, in particolare nei libri sapienziali. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, dice il salmista. Tale modo di guardare alla morte non termina con l'Antico Testamento, ma continua anche nel Vangelo di Cristo. Ricordiamo i suoi ammonimenti, alcuni. Vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? Oppure che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua vita? La tradizione della Chiesa ha fatto proprio questo insegnamento. I padri del deserto coltivavano il pensiero della morte fino a farne una pratica costante e a tenerlo vivo con tutti i mezzi. Uno di essi, il padre del deserto, che lavorava a filare la lana, aveva preso l'abitudine, si legge, di lasciar cadere ogni tanto il fuso per terra e di mettere la morte davanti ai suoi occhi prima di sollevarlo di nuovo. La mattina, esorta l'imitazione di Cristo, fa conto di non arrivare alla sera. Scesa la sera, non osare di riprometterti la mattina. Sant'Alfonso Maria dei Liguori ha scritto un trattato che conosciamo intitolato Apparecchio alla morte, che è stato per secoli un classico della spiritualità cattolica. Molti santi del secolo XVI in poi sono rappresentati in meditazione davanti a un teschio. Tale modo sapienziale di parlare della morte si riscontra in tutte le culture, non solo nella Bibbia e nel cristianesimo. Esso è presente secolarizzato anche nel pensiero moderno. E vale la pena accennare brevemente alle conclusioni in cui sono giunti due pensatori da cui influenza è ancora forte nella nostra cultura. Il primo è Jean-Paul Sartre. Egli ha rovesciato il rapporto classico tra essenza ed esistenza, affermando che l'esistenza viene prima ed è più importante dell'essenza. Tradotto in termini semplici, questo vuol dire che non esiste una scala di valori oggettivi e anteriori a tutto Dio, il bene, i valori, la legge naturale, alla quale l'uomo deve conformarsi, ma che tutto deve partire dalla propria individuale esistenza e dalla propria libertà. Ogni persona deve inventare e realizzare il suo destino come il fiume dice avanzando si scava da solo il proprio letto. La vita è un progetto che non è scritto da nessuna parte, ma si decide con le proprie scelte libere. Questo modo di concepire l'esistenza come progetto dell'uomo ignora completamente, come si vede, il dato della morte ed è confutato perciò dall'esistenza stessa che intende affermare. Che cosa può progettare l'uomo se non sa neppure, ne dipende da lui, se domani sarà ancora in vita? Più credibile su questo punto è il pensiero di un altro filosofo del secolo scorso, Martin Heidegger, che pure parte da premesse analoghe e si muove nello stesso alveo dell'esistenzialismo. Definendo l'uomo un essere per la morte, egli fa della morte non un incidente che pone fine alla vita, ma la sostanza stessa della vita, ciò di cui la vita è fatta. Ogni minuto che passa è sottratto alla vita e consegnato alla morte. Come percorrendo in auto una strada, vediamo case ed alberi scomparire velocemente dietro di noi. Vivere per la morte significa che la morte non è solo la fine, ma anche il fine della vita. Si nasce per morire, non per altro. Qual è allora, si domanda a questo punto il filosofo, quel nucleo solido, certo, invalicabile, al quale la coscienza richiama l'uomo e sul quale deve fondarsi e la sua esistenza se vuole essere autentica? Risposta, il suo nulla. Tutte le possibilità umane sono in realtà delle impossibilità. Ogni tentativo di progettarsi e di elevarsi è un saldo che parte dal nulla e finisce nel nulla. Non resta che rassegnarsi, fare come si dice di necessità, virtù, e amare il proprio destino. Una versione moderna, come si vede, dell'amorfati degli stoici, l'amore del fatto del destino. Sant'Agostino aveva anticipato anche questa intuizione del pensiero moderno sulla morte, ma per tranne una conclusione totalmente diversa. Non il nichilismo, ma fede nella vita eterna. quando nasce un uomo, scriveva, si fanno tante ipotesi. Forse sarà bello, forse sarà brutto, forse sarà ricco, forse sarà povero, forse vivrà a lungo, forse no, ma di nessuno si dice forse morirà o forse non morirà. Questa è l'unica cosa assolutamente certa della vita. quando sappiamo che uno è malato di dopisia, allora questa era una malattia incurabile, diciamo poveretto, deve morire, è condannato, non c'è rimedio. Ma non dovremmo dire lo stesso di uno che nasce? Poveretto, deve morire, non c'è rimedio, è condannato. Che differenza fa se in un tempo un po' più lungo o un po' più breve. La morte è la malattia mortale che si contrae nascendo. Dante Lighieri ha condensato in un solo verso questa visione agostiniana, definisce la vita umana sulla Terra un vivere che un correre alla morte. Sull'onda dell'avanzare della tecnologia, delle conquiste della scienza, noi rischiavamo di essere come quell'uomo della parabola che dice a se stesso anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. La presente calamità è venuta a ricordarci quanto poco dipende dall'uomo progettare e decidere il proprio futuro fuori dalla fede. La considerazione sapienziale della morte conserva dopo Cristo la stessa funzione che ha la legge dopo la venuta della grazia. Anche essa serve a custodire l'amore e la grazia. La legge scritta è data per i peccatori e noi siamo ancora peccatori, cioè soggetti alla seduzione del mondo e delle cose visibili. Tentati sempre di conformarci a questo mondo, diceva, direbbe Paolo. Non c'è punto migliore in cui collocarsi per vedere il mondo, se stessi e tutti gli avvenimenti nella loro verità che quello della morte. Allora tutto prende il giusto posto. Il mondo appare spesso un groviglio inestricabile di ingiustizie e disordine. Tutto sembra avvenire a caso e non esserci alcuna coerenza e alcun disegno. Una specie di dipinto moderno senza forma in cui tutti gli elementi e i colori sembrano posti a caso. Spesso si vede l'iniquità trionfare e l'innocenza punita. Ma perché non si creda che al mondo c'è qualcosa di fisso e di costante che talvolta si vede il contrario e cioè l'innocenza sul trono e l'iniquità sul patibolo. C'è un punto da cui osservare questo immenso quadro e decifrarne il significato? Sì, è la fine, la morte. a cui segue immediatamente il giudizio. Visto da qui tutto assume il suo giusto valore. La morte è la fine di tutte le differenze e le ingiustizie che esistono tra gli uomini. La morte, diceva il nostro grande attore comico Totò, è una livella, a zero a tutti i privilegi. quante guerre, quante crudeltà in meno si commetterebbero sulla terra se i violenti e gli oppressori dei popoli pensassero che anche loro dovranno morire, che non sono eterni. Guardare la vita dal punto di osservazione della morte dà un aiuto straordinario a vivere bene. Se è angustiato da problemi e difficoltà, portati avanti, collocati al punto giusto. Guarda queste cose dal letto di morte. Come vorresti allora avere agito? Quale importanza daresti a queste cose? Hai un contrasto con qualcuno? Guarda la cosa dal letto di morte. cosa avresti voluto aver fatto in quel momento? Aver vinto o esserti umiliato? Aver prevalso o aver perdonato? Il pensiero della morte ci impedisce di attaccarci alle cose, di fissare quaggiù la dimora del cuore, dimenticando che non abbiamo quaggiù dimora stabile. dice la lettera agli ebrei. L'uomo dice un salmo quando muore con sé non porta nulla né scende con lui la sua gloria. Nell'antichità si usava seppellire i rei con i loro gioielli e questo incoraggiava naturalmente la pratica di violare le tombe per asportare i tesori. sono state ritrovate tombe del genere in cui per tenere lontani i profanatori veniva posta sopra il sarcofago una scritta qui ci sono solo io. Come era vera quella scritta anche se la tomba nasconteva di fatto dei gioielli. L'uomo quando muore con sé non porta nulla se non quello che ha fatto di bene nella vita. Sorella morte venerà a vivare i fratelli è davvero una buona sorella maggiore una buona pedagoga. Ci insegna tante cose se soltanto la sappiamo ascoltare con docilità. La Chiesa non ha paura di mandarci a scuola da lei la sorella morte. Nella liturgia delle mercoledì delle ceneri c'è un antifono dai toni forti che suona ancora più forte nel testo originale latino. Emendemus immelius que ignoranter peccaviemus né subito preoccupati die mortis que ramus pasium penitensie et invenire non possimus. emendiamo in meglio ciò che abbiamo commesso di male per ignoranza. Non avvenga che raggiunti improvvisamente dall'ora della morte cerchiamo un tempo per fare penitenza e non lo troviamo più. Un giorno, un'ora sola, una buona confessione, come ci apparirebbero diverse queste cose in quel momento, come le preferiremmo a scettri e a regni, a lunga vita, a ricchezza, salute. Ho in mente un altro ambito, venerabili pare e fratelli, in cui abbiamo urgente bisogno di sorella morte per maestra, oltre questo campo ascetico, ed è l'evangelizzazione. Il pensiero della morte è quasi l'unica arma che ci è rimasta per scuotere il torpore di una società opulenta a cui è successo quello che è successo al popolo eletto liberato dall'Egitto. Ha mangiato, si è assaziato e ha respinto il Dio che l'aveva creato. In un momento delicato della storia del popolo eletto, Dio disse al profeta Isaia, grida, e il profeta rispose che dovrò gridare? E Dio, che ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come il fieno del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi. Credo che Dio da oggi questo stesso ordine ai Suoi profeti e lo fa perché ama i Suoi figli e non vuole che come pecore siano avviate agli inferi e che sia loro pastore la morte. Salmo 49 L'interrogativo circa il senso della vita e della morte svolse un compito notevole nella prima evangelizzazione dell'Europa e non è escluso che possa svolgerne uno analogo nello sforzo attuale per una sua rievangelizzazione. Se c'è una cosa infatti che non è cambiata in nulla dall'ora ad oggi è proprio questa che gli uomini devono morire. Il venerabile Beda narra come il cristianesimo fece il suo ingresso nell'Inghilterra del Nord vincendo la resistenza del paganesimo. il re convocò una grande assemblea del suo regno per decidere se far entrare o meno i missionari cristiani che venivano da Roma mandati da Gregorio Magno. C'erano pareri contrastanti quando si alzò uno dei dignitari e fece in sostanza questo discorso. La vita dell'uomo sulla terra o re si può descrivere così immagina che sia inverno tu siedi a cena con i tuoi duchi e i tuoi aiutanti al centro della stanza arde un fuoco che riscalda l'ampiente mentre fuori infuria la bufera invernale con pioggia e neve un passerotto giunge all'improvviso al tuo palazzo entra da un'apertura e velocissimo esce dalla parte opposta finché è dentro al riparo dal freddo dell'inverno è sicuro ma dopo un attimo eccolo ripiombare nel buio da cui è venuto e sparire dalla vista così è la nostra vita osire ignoriamo che cosa la precede che cosa seguirà se questa nuova dottrina è in grado di dirci qualcosa di più certo su di essa credo che dobbiamo ascoltarla fu l'interrogativo posto dalla morte che aprì la strada al Vangelo come una breccia sempre aperta nel cuore dell'uomo il rifiuto della morte non l'istinto sessuale sta alla base di tutto l'agire umano ha scritto un noto psicologo contro Freud il rifiuto della morte non l'istinto sessuale sta alla base di tutto in questo modo noi non ripristiniamo la paura della morte Gesù dice la lettera agli ebrei è venuto a liberare quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita è venuto a liberarci dalla paura della morte non ad accrescerla bisogna però aver conosciuto questa paura per esserne liberati Gesù è venuto a insegnare la paura della morte eterna a quelli che non conoscevano che la paura della morte temporale la morte eterna morte seconda la chiama l'Apocalisse morte seconda essa è l'unica che merita davvero il nome di morte perché non è un passaggio ma non è più una Pasqua ma un terribile capolinea è per salvare gli uomini da questa sciagura che dobbiamo tornare a predicare da cristiani sulla morte nessuno più di Francesco d'Assisi ha conosciuto il volto nuovo pasquale della morte cristiana la sua morte fu davvero un passaggio pasquale un transitus come viene celebrato nella liturgia francescana il 3 ottobre quando si sentì vicino alla fine il poverello esclamò benvenga mia sorella morte eppure nel suo cantico delle creature accanto a parole dolcissime sulla morte egli ne ha alcune tra le più terribili laudato sì mio signore persora nostra morte corporale dalla quale nessun uomo vivente può scappare guai a quelli che morranno nei peccati mortali beati quelli che troveranno nelle sue santissime volontà che la morte se conta non farà loro alcun male guai a quelli che morranno nei peccati mortali il pungiglione della morte è il peccato dice l'apostolo ciò che dà alla morte il suo più terribile potere di angosciare l'uomo credente e di fargli paura è il peccato se uno vive in peccato mortale per lui la morte ha ancora il pungiglione il veleno come prima di Cristo ferisce uccide e manda la genna non temete direbbe Gesù la morte che uccide il corpo e dopo non può fare più nulla temete quella morte che dopo aver ucciso il corpo ha il potere di gettare nella genna istituendo l'eucarestia Gesù anticipò la propria morte noi possiamo fare lo stesso anzi Gesù ha inventato questo mezzo proprio per farci partecipi della sua morte per unirci a sé partecipare all'eucarestia è il modo più vero più giusto e più efficace di apparecchiarci alla morte in essa celebriamo anche la nostra morte e la offriamo giorno per giorno al Padre nell'eucarestia noi possiamo far salire al Padre il nostro Amen sì a ciò che ci aspetta al genere di morte che egli vorrà permettere per noi in essa noi facciamo testamento decidiamo a chi lasciare la vita per chi morire siamo nati è vero per poter morire la morte non è solo la fine ma anche il fine della vita questo però lungi dall'apparire una condanna come diceva il filosofo ricordato sopra appare invece un privilegio Cristo dice San Gregorio di Nissa è nato per poter morire cioè per poter dare la vita e riscatto per tutti anche noi abbiamo ricevuto in dono la vita per avere qualcosa di unico di prezioso di degno di Dio da poter dare a nostra volta a Dio quale uso più bello si può fare della vita che farne dono per amore al creatore che per amore ce l'ha donata noi possiamo fare nostre le parole pronunciate dal sacerdote all'offertorio della messa sul pane e sul vino e dire dalla tua bontà abbiamo ricevuto questa nostra vita la presentiamo a te perché diventi sacrificio vivente santo a te gradito con tutto ciò venerabili padri e fratelli non abbiamo tolto al pensiero della morte il suo pongiglione la sua capacità di ancosciarci che anche Gesù ha voluto sperimentare nei cezzemani siamo però almeno più preparati ad accogliere il consolante messaggio che ci viene dalla fede e che la liturgia proclama nel prefazio della messa dei defunti ai tuoi fedeli signore la vita non è tolta ma trasformata e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno viene preparata un'abitazione eterna nel cielo di questa abitazione eterna nei cieli parleremo a Dio piacento nella prossima meditazione venerabili padri fratelli e sorelle buon tempo di avvento a Dio piacento di un'abitazione di un'abitazione di un'abitazione a Dio piacento a Dio piacento a Sì